Mi stai dicendo che tutti avranno a disposizione un coach col quale confrontarsi e pianificare il percorso in modo meritocratico, ma sto capendo bene. Approfittatene adesso, prima che si sveglino tutti, ed è urgente perché se fino a qualche anno fa questa è la cash flow in più che veniva fatto, che ti mettevi in tasca per costruire la tua ricchezza, ora potrebbe essere quel cash flow necessario alla sopravvivenza, perché quando arriveranno le bollette in quest'inverno potresti non avere abbastanza di soldi. Questo inverno prevedo che la possibilità di fare i bonus sia sempre più grande, anche per questo abbiamo le vacanze studio, poi ne parleremo perché ci sono i mondiali, e non è solo quello, il nostro cash flow abbiamo visto che oltre ai bonus c'è colpo e anche la parte di trading guidato, quindi tre bei pilastroni per fare il cash flow e avremo anche il 3 più 1 perché abbiamo un quarto pilastrone che stasera spoileriamo. È stato bello leggere i commenti del gruppo in questa settimana e c'era un ragazzo che si lamentava perché due anni fa aveva comprato un bonus sicuro e dice, eh ma io ho speso 300 euro e non ho guadagnati solo 500. E come 300 euro? Siamo andati a vedere, no, guarda che hai speso 47 euro. Ah già, sì, sì, mi ricordavo male, ho speso 47 euro e non ho guadagnati 500. Ora però 197 mi costa il secondo passaggio e poi ho visto che i corsi costano anche 3000 euro. gli ho detto, scusa, tu hai messo 47, facciamo 50, cifra tonda. Hai guadagnato 500, hai fatto per 10, ti rendi conto? Ora, se metti 197 e fai per 10, guadagni 2000. Se quando arriverai al corso di 3000 fai per 10, sono 30.000. Cioè tu dovresti sperare che noi un giorno facciamo un corso da 50.000. Giusto? Se fai sempre per 10. Cioè cos'è che non ti torna? C'è qualcosa di più bello di mettere 50 euro e ritirarne 500? Cioè le persone stanno veramente impazzendo in Italia perché li stanno massacrando con questi cinema mediatici di paura, di terrore e ormai non sono neanche più contenti quando riescono a fare per 10 in un mese poi, capito? Appena iniziato, senza avere skill, senza studiare trading o network marketing o chissà quale, o publishing, chissà quale attività per mille anni, dropshipping, affiliate, insomma, le metto tutte. Attività che richiedono anni e anni e anni. Qua fai subito per 10, senza rischio, e riesci anche a lamentarti. Cioè figlio mio, c'è qualcosa che non va in quello che sta succedendo in Italia. Quindi ragazzi approfittatene perché se all'improvviso si svegliassero tutti e tutti facessero i bonus, sarebbe finita la festa. Grande vittoria perché facciamo fallire tutti i book e liberiamo il mondo da questi bampili. Però sarebbe finita la festa. Quindi approfittatene adesso prima che si sveglino tutti. Ed è urgente perché? Perché se fino a qualche anno fa questa è la cash flow in più che veniva fatto, che ti mettevi in tasca per costruire la tua ricchezza, ora potrebbe essere quel cash flow necessario alla sopravvivenza. Perché quando arriveranno le bollette in quest'inverno potresti non avere abbastanza di soldi. E se aspetti di avere i debiti per fare il percorso, sarà molto più difficile che riuscirai a farlo. Quindi è diventato urgente ragazzi iniziare, pedalare e spingere. Anche per questo poi il 13 uscirà il sito nuovo di Liberi dal Lavoro. 13 settembre è compleanno di Liberi dal Lavoro. Inizia la quinta stagione ufficiale. Sito nuovo, tutto guidato e assistente personale per tutti. Abbiamo un sistema dove tutti potranno avere meritocraticamente l'assistente personale. Perché è importantissimo. Cioè mi stai dicendo che tutti avranno a disposizione un coach col quale confrontarsi, pianificare il percorso in modo meritocratico, in regalo, ma sto capendo bene. Non è un coach, è un assistente personale. Qual è la differenza? Che il coach fa coaching, quindi ti serve per elevarti a livello anche mentale, a livello spirituale, a livello di persona. L'assistente personale invece è uno che ti aiuta a organizzare il lavoro. Quindi semplicemente il tuo assistente ti dice questa settimana devi fare tac, 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 questo, ok? Eh ma il tempo, il mind... No, 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 questa settimana tu ti dimentichi di tutto e fai questo, 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 questo. Perché devi arrivare a fare soldi il prima possibile. Quindi l'assistente personale è uno strumento che è a disposizione, che ti organizza il tempo e naturalmente se hai qualche difficoltà tecnica te la risolve lui. Perché sono fatti apposta, sono creati apposta gli assistenti personali per darti il supporto tecnico. Quindi è uno strumento a tua disposizione che potrai avere meritocraticamente e ci sarà poi la nuova edizione di Autostrada che è fatta così, con l'assistente che ti porta ad avere un risultato garantito. Ovvero, una volta che entri in Autostrada tu avrai lezioni con questo assistente una volta alla settimana fino a quando non arrivi al risultato. Ok? Ci vogliono due mesi per due mesi, ci vogliono dieci per dieci mesi. Non esiste fallire. Va bene? No. 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 Grazie a tutti.